11 vaccini sono ora obbligatori per i bambini nati in Francia a partire dal 1 gennaio 2018. Fino ad oggi solo 3 erano necessari per difterite, tetano e poliomielite. Gli altri 8 che erano solo consigliati diventano ora indispensabili per l'ingresso a scuola e negli asili. Tra le patologie mirate per i vaccini, per tosse, morbillo, parotite, cosiddette orecchioni, rosolie ed epatite B. I controlli inizieranno in giugno per lasciare il tempo alle famiglie di provvedere alle vaccinazioni. La riforma voluta dal ministro della Salute Agnès Buzin ha sollevato molti dibattiti, mettendo in evidenza la sfiducia di parte della popolazione francese nei confronti dell'efficacia delle vaccinazioni per non parlare dei presunti rischi alla salute. In Italia, dal giugno 2017, sono obbligatori 10 vaccini anche per la varicella e altri 4 sono fortemente raccomandati.